Dove andiamo oggi? Viaggio nel tempo! Non dove, bambini! Quando? Vedo che hai sentito la mia mancanza, eh, papà? Devi smetterla di renderti ridicolo davanti a tutti. Dovevi tirare fuori la storia della rigenerazione della Terra anche stavolta. Ecco il grande Giorgio che scende tra noi mortali. Ehi, tutti i tuoi consigli. Sono per chiodi il calcio a non farlo odiare anche agli altri. Non ascoltare. Visto che tu, Polino, non c'è di cosa. Guardate, gli animati prestosi. Ci sono le ragglazioni. Oh no! I tigreti dentro a sciabola! Come faccio adesso?